Comunque, la città è messa male. Non pensavo si arrivassi a tanto. Davvero, questa è Shibuya. Davvero, questa è Shibuya. Allora, strappagli il nucleo. Non male. Volendo, quei nuclei possono essere considerati i loro cuori. Noi. 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 Qui abbiamo finito. Andiamo. Cos'è? Noi. Vi. 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 Bene, è finita per fortuna. Dovremmo esserci liberati della corruzione. 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 Ok. 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 Non mi piace proprio per niente. Scommetto che... Guarda, ho fatto scorta. Ho scoperto la fede, eh? Con questo disastro... Scommetto che... Hai fregato veramente? Certo Certo Ma che diavolo è? L'odore di incenso mi lascia sempre Ah sì? A me ricorda l'odore dei corpi in decomposizione Guarda, si è fermato Sarà utile Ok Guarda, si è fermato Ma lei è? Ma lei è? Grazie a tutti.